l'ho portato il professore tutto dice prendiamo solo questi per teresa e suo marito prendi già su dell'altro che io mangio allora tanti auguri che signore ti benedica e tu prendi da me soprattutto la salute tanti auguri e signore benedica tu e tu anche professore e professore tanti auguri che lei porta questa speranza no io devo da solo prendere allora è lei da me che lei avrà la salute lunga che porterà aiuto per tanti malati sofferenti ancora e insieme insieme appoggiando uno l'altro che tanti sperano che signore benedica e auguri tanti tanti auguri questo poi potete mangiare anche lei prendi tu dai lì uno e tanti auguri anche per te che guarisci da tutto che lo prendi da me anche e pezzettino mangi tu che Gesù ti benedica che ti dà proprio la gioia e forza e così quello resta con voi e questo io ho fatto l'anno scorso l'ho portato 4.000 questo pane in italia che sto facendo una nuova diciamo un passaggio della tradizione della polonia per giovanni paolo secondo anche lui spezzava questo pane fino alla vita prima di natale e anche natale con tanti allora io penso che questo ci ricrea nuovi valori anche perché dico durante questo spezzamento dite che io ti voglio bene che ti amo che siamo insieme perché uno prende pezzo dell'altro perché l'amore è un scambio che noi daremo qualcosa di bene l'altro e l'altro a me anche con la nostra presenza tante volte con il nostro sguardo con quello di essere tante volte è silenzio no ma importante che c'è questo amore allora io ho portato 4.000 l'anno scorso questo anno quasi 7.000 tanti l'hanno già nelle chiese l'abbiamo spezzato l'abbiamo portato di questo messaggio perché voglio che la gente porta a casa che che sarà qualcosa diverso che riescono a esprimere questo amore uno verso l'altro perché molto importante e poi mangiano questo pane io anche penso si può dare animale che avete a casa avete qualche anima letto sì 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 che poi da natale spezzate anche lui questo è dono e c'è anche lui vedi vieni qua vieni anche tu non so se non lo mangia questo fosse proprio san charbel che ci aiuti anche nel io e qualche anno che mi hanno quel gruppo lì io ho letto tutta la vita ho letto di san charbel allora vedete anche professore che poi c'è anche il film dedicato l'avete visto no c'è anche il documentario curcio editore il santo guaritore santo guaritore bello bello poi vediamo sono immagini vediamo il telefono vede che poi anche anche la madonna chi è il mio figlio è figlio ok allora tanti 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 auguri io sono a casa vostra ti benedico dove sei in germania l'ho lasciato pane benedetto per te questo pane che è stato benedetto d'arcivescovo dicendo come proprio dove c'è il quadro della madonna nera e proprio da questo certo e questo pane bianco prendi anche tu spezzando uno dall'altro con augurio di amore di essere veramente così unito anche e sono con tuoi genitori con tua sorella e ti benedico da qui con tutto cuore la tua vita per tutta la tua carriera anche quella che tu veramente che dio ti guida su questo per non fare nessun sbario ti benedico nel nome del padre del figlio dello spirito santo ok allora sono felice di sentirti penso io tante volte passo in germania mi piacerebbe una volta sentire tuo concerto sarebbe bello guarda prego per te stasera sono adesio adesio per la santa messa con tante persone e ti ricorderò tante stami bene ti passo tua mamma tua mamma sempre mi parla di te sempre sempre diciamo pensa di te e papà anche ma importante questa unione perché quando un giorno mancano genitori sai il primo natale che io non ho più genitori primo perché è morto mio babbo un mese fa mamma dieci anni fa allora è natale diverso ma io ho detto posso essere triste no perché loro vivono ma certo che non sono vicino non è un giorno sarai anche tu senza genitori ma finché finché riai fai di tutto di incontrare spesso di abbracciare di dire grazie di baciare e questo è importante e io ti veramente benedico e con tutto cuore prego per te ciao ti passo tuo papà ma cia guardate guardate carcosa roviamo canto natalizno bello eh, ancora qualcosa è uscito, guardiamoci, bello e poi sempre aspetta, oh bambinello, sono di carta festa, le fanno nel sud dell'Italia, ah, to robią właśnie na południu Włoch, zobaczcie, tutaj, mówi, zrobione jest to z, a mi piace questo perché c'è solo loro, basta, non prezepio per me è questo, zobacze, tylko święty Józef, Matka Boża, no ale już jest tu oczekiwanie na Dzieciątko Jezus, zobaczcie, już tu jest, i będzie odsłonięte to Dzieciątko o północy, a mezzamotte, lotti resta, i giorni di Natale, vero? Sì. Ancora tanti auguri.